Sono cresciuti nelle scuole di legno realizzate grazie alla solidarietà nella zona industriale di Bonefro, dove diverse case del villaggio provvisorio sono ancora abitate. Ora dopo 12 anni dal terremoto, 82 alunni sono rientrati in paese in una scuola di mattoni, così come l'hanno chiamata nelle tante lettere scritte per l'occasione. Insieme a loro i docenti e il personale che hanno vissuto tante esperienze nel lungo periodo di provvisorietà. Per i ragazzi non sempre sia stato un sacrificio, perché loro vivevano l'uso del pullman la mattina come una gita. Per loro sembrava di andare tutti i giorni in gita. Questi tre chilometri che ci separavano dal paese non gli pesavano nemmeno di alzarsi un attimino prima la mattina. Era una struttura provvisoria che col passare del tempo andava diventando fatiscente. Infatti ci pioveva dentro, nonostante gli interventi frequenti dell'amministrazione comunale. Una giornata di festa è carica di emozioni anche per tante famiglie che hanno partecipato alla cerimonia. Presenti tra gli altri il governatore Frattura, il presidente della provincia dei Matteis e altre autorità regionali e locali. L'edificio di Via Caduti di Via Fani, reso inagibile dal terremoto, è stato ristrutturato e consolidato con le tecniche più moderne e innovative. Il costo dell'intervento ammonta a 1.550.000 euro. 57 gli alunni della primaria, 25 quelli della secondaria di primo grado tornati tra i banchi. Il progetto non è finito. Grazie ad altri 550.000 euro assegnati dal decreto Renzi sulle scuole sicure, si competerà la palestra e la variante ha previsto anche un auditorio e laboratori. È un segnale estremamente positivo perché un comune non può prescindere dalla presenza della scuola, si può fare a meno di altri servizi ma non della scuola, per cui noi siamo felicissimi e estremamente soddisfatti per questa riapertura.